che sia una grande giornata Grazie 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 Buongiorno Siamo qui al ritrovo del campionato italiano cronometro individuale percorso di 12 km il nostro grande gruppo sportivo Casari siamo in 15 la partenza il primo partirà alle 9.23 e a seguire ogni minuto il percorso è un percorso molto nervoso e non è tutto piano purtroppo il cronometro si pensa che sia piano ma non è piano e i premi saranno ai primi 5 classificati di ogni categoria però per tutti gli attretti un omaggio ricordo della manifestazione che è molto importante perché è un campionato italiano che si svolge oggi qui allo Nato la partenza alla cavallina e l'arrivo anche alla cavallina uno strappo su uno strappo di 500 metri e in bocca al lupo tutti i partecipanti che tutto vada bene vi ringrazio ecco siamo in attesa del primo concorrente primo cronometrista ecco Cesare Spinetti destingavardo ecco Cesare Spinetti sta per concludere la sua fatica sta per concludere la sua fatica bisogna dirti incasare ecco il secondo concorrente la sua fatica che numero è What si paga? Dai manca dai Dai Alberto, dai! Siamo un po' sforzati, zona a partenza. Siamo un po' sforzati, zona a partenza. Siamo un po' sforzati. 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 Sforzati.